5 punti cattiveria, ho 70, una questione così Ho già i balverini Avrei preferito i banditi per il nostro essere sincero Il round a squadre L'oggetto è acido L'oggetto è acido, non è cattivo E' acido, esattamente E 20 della vita vanno a diventare Speramente acido, gentile ma acido E purtroppo che nei commenti E' scritto, sino da poco Perché è difficile fare l'acido E non è maleducato, è un cassino Infatti ci sto a volte a rispondere tanti 5 minuti Per un sombreretto potrò Però se che ho andato filmato Può leggerla bene e vale la pena Sussurro, no madonna E' un cesso con le ruote E' un cesso con le ruote Dove sono le ruote ti prego Spiega Cesso a pedali, vabbè E' un modo di dire il cazzo Dove sono i pedali allora No, è Nel senso E' un cesso Ma E' più inutile di un cesso Cesso a pedali, cosa sa Cesso a pedali? Niente Stai sapere, un giorno che ho un cesso a pedali perfetti dispetti No, spallo Oppure, non lo so, è un cesso con rossetto Nel senso Un cesso con rossetto Sì No, quella, l'altra Ah, quella delle spalti Sì, ne pubblica, ok Senti, con 22.000 ci sta a usare le pozioni e prendere Perché dice che riesco a portarmi sul moltiplicatore ancora di più Non lo so, come te la senti? Boh, non voglio prendere rischio Comunque 22.000 sono Ma il moltiplicatore non ricordo se è 0 ogni volta che viene colpito No, non so 0 però Si riduce Si riduce Per di più non so quando finisce Cioè, sicuramente pot... Vabbè, aspetta Uno da 22 l'ho fatto Adesso vediamo se riesco a aumentare ulteriormente E' un sacco buono Perché si riduce troppo velocemente Eh, sì, no, vabbè, sparaci di più Tipo il tuo Sono già 23? Dai, 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 dai No Ma cosa fai? No Non li ha mali di mostro, ragazzi No, ma com'è? Vedi che non c'è stata pedali Magari tu non l'hai mai sentito C'è stata pedali Perché il suono è un po' strano 24, 25 Eh, un culo senza buco, sei esatto Vai, vai dietro Vai, vai dietro Vai, vai dietro Vai, vai dietro Ca merda Vai, vai dietro 26 Andiamo di 26 Io lo ho fatto Prima che tessi in ciula tutto Io lo userei Si mica va giù che è una... Più più devo farlo ogni volta E questa è una cosa che mi scazza Un cesto a pedali sarebbe utile Tiri l'acqua pedalando Cioè no, scusami Adesso, perdona Stiamo sul serio, perdonami Io sto cagando Che è il momento preparato della giornata E devo anche fare fatica Per tirare la tua catena Cioè no, non hai capito L'unico scopo della mia giornata È andare in bagno Ti alleni mentre caghi Figo Ma no Vuoi dire, vuoi fare fatica Mentre caghi Non hai capito Stai tu fai fatica per cagare Tanto non riuscirei a cagare Se mi sto impegnando In altre attività collaterali Perché l'hai preso a pugni il baserino Con un po' scusami È perché quando passo da magia Al cosa Info dell'alarma a caso Decide Egli Ah, ecco qua E non morti Coraggiosamente addentrato nel cimitero di Leitchville Mordi che quando diventa abbastanza forte di OneShot Ma non credo sia ancora Tutti la nera Papapapapam Popop v Popopop Popop Come è chiamato qui emy Asseghero Con Flore Quoro ritorno posto che non scendeva a dare a te per me tanto su un gioco un'esercizio per te lo è vero per te ho aggiunto lo stato di dove statistica o la famosa 5 famoso lunedì se ne ha reggete per il ciotto adesso per risolvere questa quantità di bonta accumulata un filo c per te per sé sì ma poi non ti preoccupare che si stava si fa buona quando fai una mossa per la barba che volo bene che fanno una riabilitazione intanto cagano ci credi che ci cagano sussurro di merda sempre mezzi coglioni il venti di sperma ora ok sto prendendo un fottio d'esperienza per la forza a fama guardare che si guardavo per capire perché ho detto hai aggiunto lo status di hanno sentito cosa ho preso ah è vero che lo diceva la voce quando lo facevi da quanti bonus fu un conto un po' un po' un po' oh no oh no oh no antibonus buon staff no ma tranquilli che poi ci ripigliamo non c'è problema se prende maglonna si può uccidere donne e si prende bambini no stai no ma poi io non lo sapevo che ammazzando tutta la città potessi acquistare i negozi quindi vuol dire che distruggo tutta la città compro tutta la città e poi sarò miliardario posso comprarmi quello che voglio peccato che non ci saranno più mercanti a vendermelo perché sarò io l'unico mercante della città infatti io non ho mai capito molto bene ehm come funziona la cosa quando uccidi gli altri che tu sei il mercante non ho mai capito molto bene a boh perché in pratica credo che tu abbia negozio ci metti uno che boh ti fa i prezzi di favore eh non lo so non lo so non lo so non c'ho mai indagato se non lo so la lingua ma quando i città io credo c'è il sole stupro bambini ma guadagnato una cosa che potrebbe poter fare una battuta che potrebbe per il canale successivo no infatti evito alla grandissima la battuta perfetto perché ti voglio bene grazie ce l'avrei proprio quattro ce l'avrei quasi sotto la lingua vedo che mi chiede se vuole vittura si sa quanto si incazzatona quando vede morire su suro adottorizzi yep anche perché poi tentiamo di farci con la camera Spoiler E tra l'altro poi ci combatti contro il Tuono Se salvi Sussurro Praticamente la missione in cui uccidi Tuono Diventa aiuta Tuono a fare questa cosa Mentre se uccidi Sussurro Quella missione la devi fare Se sei cattivo devi salvare un condannato a morte Che viene impiccato Se sei buono invece devi assicurarti Che i banditti non liberi di condannato a morte E c'è Tuono Se tu sei buono aiuti Tuono a uccidere i banditti Se tu sei cattivo uccidere i banditti Non ho fatto e non ce l'avevo Il Tuono ad aiutarmi Perché non posso fare l'incantesimo ad esempio Perché dobbiamo fare la massa Ma mi fa fare l'incantesimo Fuglia pazza Fuglia pazza O se non è abbastanza amara No c'ho amara a massa Vabbè posso anche prenderli ad accettare Puoi sapere che sono umani Perché le corna a quanto pare E me lo stempiano Quindi avete capito perché sono pelato E che malvagio Ora capite il perché delle risposte nei commenti I banditti altri punti mentali Vabbè ma tanto Ma basta Colpire qualcuno un attimo E faccio una strage No fai Ok va ok Sono gli steroidi Oh le magician guarda per sé e beve un soffitto Ciao le magician Eh boh ma calleggia siamo in 18 Eh si 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 ma infatti per essere stata così inaspettata se l'annuncio una settimana prima la live Faccio il bot Prima lo Z prenderò di no Lo Z è cattivo E lui che prenderò di no Perché infatti io sono 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 Sfragiato la schiena Sulle lame volanti Le lame volanti Le rotanti volevo dire Vabbè ci siamo intesi Ballerine volanti Oddio le ballerine volanti Ci siamo intesi Sfragiato la grande Ce l'aveva messo nell'altra per il gioco Trigger Saliamo a quota 20 I po' alla cercavo di accecare a tirare di una ballerina volante in faccia Ballerina volante Ritirate dal mercato Ciao God Thicker buonasera Che improbabile Sei Come la crystal ball Uh bella è tipo nocivissimo Oh uno spammer Eh Why don't you put a banner for this site bro Oh Ecco perché devo levare i cosi Oh ci penso io Bann user Bambam Devo levare la possibilità di mettere i link Zento ma alla fine la pagina facebook non l'hai fatta hai due tre settimane e sei mesi fa Hai ragione Un altro bann anche lui Yeeey Un altro Un altro Allora poi vado nell'impostazione Tra l'altro lo stesso con un portino diverso C'era lo stesso messaggio Eh no la pagina facebook in teoria ce l'ho da quando ho aperto il canale E' sempre lì Il problema è che non la sto publicizzando e non la sto mettendo come link da nessuna parte Ma la pagina c'è Tecnicamente Che È stato il mio primo bann da moderatore e mi sento veramente importante Si senti importante Coggiulo mi sento veramente in cazzo duro Non capisco perché non posso usare la furia dei pazzi Boh st'era bagarre Oh ma quanti danni fa sto qua Cazzo ti ho due spadate mi deve avere metà vita e io riesco a colpirlo una Oh Filo della merda Non riesco a colpirlo Cazzo ho tre pozioni per uccidere un bandito Minchia porca Mennomale che ne hai 85 No 85 è di carne Produzioni credo di essere quasi a termine Finca si sta stranciando un film No vado solo di mozze fiorenti Di mozze fiorenti Bah Mennomale che non cazzo di arcieri La vostra madre Ah Infatti la stessa che lo vedo grazie Argon Però nel senso non ci sto dietro Devo ancora Devo rimodernarla sicuramente Perché ne fatti fa schifo Io devo cambiare la grafica del canale dai 300 iscritti E ce l'ho solo che non Trovo la dimensione giusta da dire che mi ha fatto Un premio di 3.000 pezzi d'oro E poi più che altro non... Hanno intascato 6.600 pezzi d'oro E se non fossero abbastanza ce ne sono altri 4.000 pezzi d'oro Ma ieri ho attaccato Mai mi è attaccato porco Giuda E adesso si ragazzi Domani mi metto su in sotto in superregistration mode E vi faccio anche speciale per ormai 3.500 Non farò direttamente così Uuuuh, indovina un po' chi deve estrarre per i 1.000 E non l'ho ancora fatto Hahahaha Troppo boh Indovina chi deve ancora fare quello dei 3.000 E non l'ho ancora fatto all'annuncio del contest Indovina Maledizione E boh, quindi Quando... Sei che usco sopra le punte Sì, sono Oh, siamo c'è in croce Quindi adesso Diciamo che oltre quello Oltre il contest Oltre tutti i grazie, grazie Baccini, bacini Dico, ah, c'ho anche una pagina a preso Cazzo Ti tolgo 20 al secondo L'ulima dei troll È che l'altro dovrebbe tenere impegnato l'altro troll Ma non lo fa Sussurro di merda Ok Un attimo c'ho la... Ecco, adesso mi bannano per... Devo rispondere a cittare, arrivo Oh, riusciamo a non venire schiantati da un troll tipo Ok, è morto Guarda che se ho gioco a baseball col troll Boom! Peccato che quello dopo mi ha preso Però è stato figo Per più, questi qua di terra hanno davvero poca vita Il problema è quando sono in due Che non riesco Anche da solo, come potete vedere, che mi ha schiantato Ma non riesco a... Evitare di prendere i colpi per via di collito A limitare le stassate Ci pensasse Sussurro Che invece è inutile al mondo Ok, adesso ci sono i troll di pietra Altri 4.000 Sì, decisamente personaggio più inutile del gioco Wow, hanno raggiunto un totale di 10.600 pezzi d'oro Wow, 10.600 Mi diverto con poco Certo che ne voglio altri 8.000 Salgo 18.600 Stiamo scherzando La situazione sta diventando sempre più pressante Per i nostri concorrenti Che non riescono a nascondere la loro tensione Lo sa lui che sono teso Ma cosa si propone tra i nostri nobili eroi e la vittoria? Sbaglio o è un ammasso di dettagli? No, sono i troll delle rocce Strenoth e Groi Strenoth e poi scrivono Stanoth Senza l'aria 3 2 1 Dai eh Via Ok, questi hanno tanta vita E anche tanto odio addosso Però se sto così si tirano le pietre Cioè le pietre che mi tira Il troll Rimbalzano su questo troll Il problema È che sussurro Inutile essere Devi andare dall'altro troll A farti colpire Cosa stai facendo? Tu spiegami Cosa stai facendo? Sei lì con la lancia E non fai niente Sei inutile Come t'hanno preso l'agilità dell'eroe? Sei una raccomandata da tuo fratello Ups Uno che mi tira le pietre L'altro che tira i pestoni Dove fai? Cosa? Sussurro! Eh, beh Stai stessa per terra Che magari c'è meno danni Qua non sono riuscito a scappare Ma va bene Due troll Nei sotterranei Allora, mi basta uccidere uno Perché poi l'altro Me lo gestisco abbastanza bene Perché riesco a sfuggire Cioè avendo lo spazio per farlo Ultime parole famose Perché è troppo legnata Che dall'altro Eccola qua Pietra nelle gengive Via Tant'è Nonostante la rotolata Che di solito Mi dava un frame di mincibilità Che se anche Era ancora all'interno Dello spazio In cui lì mi colpiva Mi faceva comunque uscire Dello spazio Eh no Forse lo faccio dopo questo Devo aspettare Vabbè Finché mi mangio le mele Per recuperare vita No Come mi ha colpito E ride il troll Leroy Jenkins Esatto Guarda adesso Tant'è Stupido pezzo di roccia I grandi insulti Da parte del pubblico Ho visto Ok Adesso è gestibile Registriamo con la mezz'oretta A buttarlo giù a stazzate Ma è gestibile Sussurro È per terra A prendere legnate Sai che cazzo Guarda a caso Oh che bello Che sei bloccato Così lo faccio Devo My name is Inigo Montoya You troll my father Prepare to ban Quanta vita Non aveva molto meno L'altro Un'ipotesi errata No Dovei tipo Comprarmi Multiattacco Almeno Multiattacco Mi permette Di fare l'attacco Subito successivo All'uso della magia Doppio Conti i nemici Normali Gli stunna E quindi Cadono per terra Di rispettare Che si rialzino Ma con i troll Li Li fa l'attacco doppio Quindi dovrebbe Dimezzarmi il tempo Anche se Sprego un po' di mana Però Non è malaccio E invece non ce l'è Wey Wey Come? Stavamo constatando L'inutilità di sussurro Ah beh Grazie Ma è sempre Siso a terra A prendersi le pietre in faccia In che me sei nato Z Io sono Il segno Virgo Quindi indovina E anche se mi sono nato Bellissimo segno Viergo E' il cavaliere dello zodiaco Più cazzuto Ma è finito di merda Che esista Probabilmente l'ha fatto per quello 8600 pezzi d'oro E fare una mossa più oriente Cazzo Gli appoggi sono aumentato E ma perché ci sto più tempo E fa tipo solo il doppio del danno Cioè Non ne vale la pena Avevo già fatto i calcoli Ho capito Ma è proprio il fatto Che aumenta gli applausi Però A meno quelli Ah beh sì Quello sì Non c'ho pensato Vabbè tanto gli applausi Terminano solo Se ti lanciano più roba E abbiamo capito Però sono già metà Sono meno fama o meno subito Non ricordo Siamo già metà Su rossi in effetti Su rossi in effetti Su rossi in effetti Si vede Che è proprio Che è un'ora Bella la soneria Grazie cari Eh beh in effetti In effetti Che soneria hai? Come che soneria hai? O le epic sax guy Ok No questo vi aspetta E' un tipo che ha fatto un assoluto Di sassofono Una gara Ignorantissimo Facendo tipo Movimenti pelvici a non finire Mentre suonava E' un dato nella storia Sì che poi Secondo me non suona Neanche lui Come è registrato Davvero Che vedo Perché No Oh no E' lui Ma Sono l'ora Non muove le dita Ce lo giuro Fa solo il movimento pelvico E fa quindi Ci sono i diversi Con quel movimento pelvico E non credo E beh Probabilmente è per quello Che lo fai male Perché lo fai male Se su su Non lo smette Di rompere il cazzo La bestia La bestia Dovebbiamo andare giù Per permettermi No Il mio soneria Si lo dice Se è Miami Bellini Morirei Ma infatti Il satanotus Lo vedo un po' più spento Cioè dice Sta diventando buono No No Questa cretina di sussurro Ha buggato il boss No Davvero No Non lo so Il boss dovrebbe A un certo punto Prendere Andarsene sotto terra Poi torna su E fa un attacco Dove Praticamente C'ha una finestra Di vulnerabilità Pazzesca Finchiamo qua Devo chiamare Arrivo Tranquilo Oh ecco qua C'è la qua Via Adesso le grandi lineate Facciamo anche I mossefiorienti Che casano in pubblico Si deve farci un po' Di mossefiorienti Che ragione lo zetto Me ne avevo svanito Yes Schiacciamo gli scorpioni Come se fossero Le talpe Di ammazzare la talpa Non è ammazzare la talpa Ragazzi che scaccia la talpa Acchiappa la talpa L'ho fatta decenerare Come gioco Nope Nope Ho mai preso lo stesso Vabbè Non mi gridano Bu Adesso mi faccio rispettare Guardate Un attimo Mancazzo Forse me la sono giocata male Non usando le mossefiorienti Prima Vabbè Frega niente Delle mossefiorienti Guardi mossefiorienti Che non stanno Gattando niente Non me frega Non è uguale Posso anche Continuare ad attaccarti Sai Faccio meno Sono su una trappola E non capisco Perché è un scappo Sussurro Baggabiuso Report Ok Dai Esci fuori Meschino essere Qua Menomani che c'è Lo suono Stereofonico Sono riuscito a sentire Nella cuffia destra Ok È morto Direi A dir poco Sì Continuo ad attaccarlo Perché aumenta L'esperienza che prendo Anche se è già morto Sono stato anche Un bug abuser Mi dispiace La banca dell'arena È letteralmente Sull'astrico No Voglio tirare i pugni A sussurro E fa salire Vertiginosamente Il totale A 28.600 Pezzi 28.600 Pezzi Beh Come sapete Oggi Abbiamo con noi Un ospite speciale È lui L'unico L'aroe 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 Quanto è più forte Posso No Non posso Qua Poi l'arico Io sono del frugno Un segno poco conosciuto Uh Adoro L'aroe Del frugno Sono così passionale Uomo amare Eh Jack di spada È fico Questo sì Chi perderà Ha il privilegio Di morire Di inanzia Non capisco Perché sia così alto Il volume L'oro Dei tizi Che acclamano E non dei dialoghi Siamo qui Per offrire Uno spettacolo Indimenticabile Ed è quello Che faremo Andiamo Che brutta Da questa inquadratura Ok Opzioni Opzioni audio E a tutto Ciao Aumento i dialoghi Ciao Siamo arrivati Alle legnate A sussurri Boh Si è arrivato in tempo Si è arrivato in tempo Per le cose belle E quanto danno Mi faccio La pippa allucinale Sicuro Ma comunque Cosa che non c'entra Solitamente La funciata Di minchia Ehm Ehm Domani sera Cioè ci viene la birra Non c'entra Non c'entra No comunque Non c'entra Non posso No No Io avevo capito Che a lotto E poi Il quattordici No L'otto Alla fine avevamo fatto Il dieci E il quattordici In Quattordici Non posso Ehm Mi dispiace Grandi nonotusti Mi dalle grandi soddisfazioni Eh Ehm Ehm Mercoledì e venerdì Ucciderà Sussurro Ogetterà Venge Venerdì Dieci Mercoledì Non ci sono Non farlo Ragazzi Lo so che non lo so Sussurro Nel senso No Uccidi L'Uccidi L'Uccidi Uccidi Tanti tanti soldi in più E potessere Di lei Cioè Non te non serve Non te non serve Non è Cioè non serve a niente A verità Sei stata 9 Non lo so A me dispiacerebbe Non è vero niente Uccidila con la tempestatura La consumi proprio Volevo vedere Come se ci cascavano in chat Non so se non ho capito Che è stata Notus Non ha rimorso Infatti Come se ci cascavano Guarda un kill di svia Cioè Beh lì che volta Mentre lei saltellava Ahahahah Non puoi faccio Troppi danni Direi Un pozzino Poi come al solito Faccio il momento Pagina Facebook E leggo la cosa Che trovo In giro Che fa quanto ridere E piangere 10.000 pezzi d'oro Per la vita di sussurro L'avevo decisa anche per 2.000 In effetti anche Anche dovendo pagare Quasi Non ti parlo Ma Veni muori Traia Mia signora Ha ucciso sussurro Non è altro che Con lo sto amico tuono No qua ancora sei fermo Davanti a lei Che la guardi Giri con lo martello Ecco come lo puoi chiamare Altro che martellotus Lo martello Lo martello Come il martello di Attila Che lo chiamava lo martello Ce la bombiamo Lady Grey Vieni a trovarmi Nella mia maggiore Nella zona nord di Bowser Sì perché siamo cattivi Quindi Ciao Lady Grey Alla grande No Ciao sussurro Ciao Che di Dio Malvagio E mentre la guardi Con i tuoi occhi rossi Fosporescenti E Laura rossa Che sale ai tuoi piedi E' proprio malvagio Soprattutto Dora di Grey Che è attratta da me Sono un figo Non so se capisci Sei spacciato E' sexino rossi Non sarà stata vendicata Guarda per me Possiamo fare anche qui Adesso Tuono No problem E' incredibile E' proprio 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 Che prima stava con Tuono Mi sembra No Tuono 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 è il suo spasimante E' il suo pretendente Alla mano Lui la ama Ma lei Vuole un vero vecchio Come noi Ehi Ehi Adesso aspetta Momentum Revelation Come non morta Che non morta Ah E' in Fable 2 E' vero Ah no Non c'ho giocato A Fable 2 E' in Fable 2 Tipo Muore E torna in vita Come Lich Una cosa del genere Una cosa strana Molto ignorante Un cuore tenero Ah scusa Jack di spada Mi dice Una brava eroina Col cuore tenero Come il tuo Forse hai visto Sua madre non diceva A te Eh la brava eroina Quei gillet E' un po' Tenevo come il tuo Dice Sono così ansioso Ah vabbè Sì Ma ok Mi sa che Madonna Si sfugge qualcosa Questo Madonna Non dorme quell'uomo Scarlatta L'ammazza Valverini Un tempo Un Mamma Quante ignorante Sua madre La sua battaglia Più importante Fu Adesso c'è la cutscene Attaccata da una dozzina Di balverini Scarlatta Li uccise Nella casella di Scarlatta Leggo la cosa No no Nella casella di Scarlatta Non è vera Bene Vabbè Lì sarebbe morta Se non fosse stato Per Brovi Un taglialegna gentile Che la prese con sé E la cura Gli eroi più spietati In realtà Si sposarono Ed ebbero due figli Una femmina e un maschio C'è spietato Non è vero C'era brava Uccideva solo Balverini Ho preso Sono una versione migliorata E uccido Anche Balverini C'è la prese con sé E la curò Bromi Di taglialegna Ebbero due figli Tu Ti rivolgeranno Ovunque come il vincitore Dell'arena Oh adesso Posso una power store nord Dove non c'è un cazzo Però posso bombardare Non perderlo Ehi E piuttosto Poi sposatela Mi sembra Yes E sposandola Ho accesso A una porta del demonio E' vero Alla residenza grey Si è completato il sigilo di campione A culo del scorpione 39.200 d'oro 4.400 di fama 60.410 di esperienza E' c'è un bandito Arriva la bomba Ehi tu Teresa vuole vederti alla diar grey Teresa vuole vedermi alla diar grey Ok Sìììììììì 5.800 d'oro Però prima non dalla di muot grey Mi teletrasporto 6.300 d'oro Mi ricorda bene Tra lato sui giro dei campioni E una Grazie.